Ancora una volta siamo costretti a intervenire per denunciare l'insostenibile condizione delle strutture Covid e non Covid dell'Audi Sassari. L'appello arriva dal segretario territoriale della CGL, Funzione Pubblica Paolo De Tori, che nel riepilogare la situazione della sanità nell'isola chiede all'assessore regionale quale sia il ruolo del Materolbia, che sarebbe dovuto diventare il riferimento del bacino d'utenza galurese. Perché, nonostante il San Francesco di Nuoro sia stato classificato tra i poli Covid, debba smistare i pazienti verso Sassari, sottolineando il ritardo in attivazione dei sei posti letto intensivi di Alghero e dei quattro subintensivi di Ozzieri. Anche dall'Oristanese, area di pertinenza di Santissima Trinità di Cagliari, arrivano ricoveri alla U di Sassari in affanno già da alcuni giorni, una condizione che ha portato all'interruzione dei congiri del personale sanitario, che non ha avuto tregua, garantendo un'assistenza su grandi numeri senza soluzione di continuità, nemmeno nella fase di remissione Covid. Oggi si ritrovano nella condizione di fornire cure intensive frammentate su più strutture, facendo peripezie tra un padiglione e l'altro, con trasferimenti di pazienti intubati. Insomma, dichiara ancora Dettori, che abbiamo intervistato, perché siamo arrivati alla fase più calda dell'emergenza pandemia, con l'acqua alla gola, nonostante le rassicurazioni dell'assessore Nieddu. Nel Sassarese i posti letto di basse e di media intensità sono esauriti. La settimana prossima probabilmente aprirà il Policlinico Sassarese. Ora è necessario che la Giunta regionale e l'azienda ospedaliera universitaria di Sassari facciano quello che ancora non hanno fatto, cioè programmare degli interventi veloci, degli interventi che individuino locali idonei all'apertura di nuovi posti letto Covid e soprattutto rivedano al pronto soccorso e dal pronto soccorso verso tutti i reparti e i servizi diagnostici i percorsi, le divisioni e le separazioni. È necessario uno sforzo, uno sforzo difficile perché l'azienda ospedaliera universitaria muore di media con continui cambi di commissari straordinari. Anche da questo punto di vista sarebbe stato necessario dare una maggiore stabilità.